oggi 13 giugno 2022 e con questi colori della sera davanti ad adonai che pulsa io dichiaro il mio amore eterno e infinito per l'assoluto per la sorgente e per il bene supremo mi dichiaro serva al servizio dell'assoluto della luce e dell'amore sovrascrivo dichiaro e proietto tutto il mio amore e offro la mia vita al servizio per il ritorno dell'avatar che viene per la salvezza di questo mondo e dell'umanità abba abba padre grazie madre figlio attendo il tuo ritorno su questo piano e lo annuncio a gran voce perché so che stai tornando in mezzo a noi il sole tornerà a camminare in mezzo a noi ha già camminato in mezzo a noi ma tornerà qui e io annuncio il tuo ritorno e così sia e così è amén grazie a tutti